Tirando le somme di un progetto importante condotto a Caffoscari con un convegno di livello internazionale, focus sugli anni 80, mercato energetico e scelte politiche, perché? Il tema dell'energia è con ogni evidenza uno dei temi cruciali del nostro presente e del nostro recente passato, cruciale da un lato per le relazioni internazionali e la politica interna che le questioni energetiche attivano e dall'altro canto per le questioni climatiche e ambientali che sono collegate al consumo di combustibili fossili e quindi alla produzione di CO2, il cosiddetto effetto serra. Rientrare sul tema degli anni 80 e come si arriva alla conferma del paradigma petrolifero nonostante tutti i cosiddetti shock degli anni 70 che lo avevano per certi versi messo in discussione, ci pare un contributo importante alla conoscenza nel momento in cui tutto sommato le risposte finora date alla conferma di questo paradigma sono state abbastanza teoriche e non costruite empiricamente. Non solo prezzi, quali sono le variabili, i fattori, gli attori in gioco in questo complesso meccanismo? I prezzi chiaramente sono una variabile importante, in particolare negli anni 70 i prezzi del petrolio aumentano drammaticamente, negli anni 80, in particolare a metà degli anni 80, crollano. Questo è innegabile. Tuttavia la cosa che a noi è parsa cruciale è capire come aumentano e diminuiscono i prezzi. Vale a dire non vi è in questo gioco di aumento e diminuzione dei prezzi una questione pura di domanda e offerta come nelle condizioni ideali del mercato in cui un numero infinito di compratori e venditori si scambia un bene. Siamo in presenza tanto nell'aumento dei prezzi quanto nel crollo successivo di una lunga serie di variabili politiche, militari, anche economiche, sociali, ideologiche, di aspettative di consumo, di proiezioni sull'esaurimento o non esaurimento delle scorte energetiche. Tutte queste questioni devono essere considerate per definire il gioco dei prezzi che poi ha chiaramente il suo effetto. Si parla molto oggi di rinnovabili, nuove forme di energie, tecnologie, eccetera. A che punto era il dibattito negli anni 80? Questo era una delle sfide del nostro progetto. Negli anni 70 le rinnovabili vengono preconizzate come la risorsa del futuro prossimo. Negli anni 80 questa idea, forse anche un po' esagerata, rientra drammaticamente nel proprio guscio e di fatto la ricerca e lo sviluppo pratico delle energie rinnovabili viene rimandato di almeno un decennio e forse qualcosa di più.